in tutti questi mesi una domanda ricorrente è stata ma il motore che fine ha fatto in effetti eccolo qui quando lo abbiamo sbarcato per seguire il consiglio del caro emiliano della tecnomar ovvero spedirlo a revisionare in polonia presso la servipol che si rivelerà un graditissimo e affidabilissimo sponsor e qui bachak fece la veggente tornerà a luccicare di nuovo ciao ciao perkins buon viaggio ti affidiamo nelle mani esperte della servipol eravamo consapevoli delle pessime condizioni del motore confermate dalla servipol che però ha preso a cuore la faccenda e a ci ha restituito un motore come nuovo tornerà in meravigliosi cari di meravigliosi cari un motore confermate dalla servipol che si rivela in meravigliosi cari di meravigliosi cari un motore confermate dalla servipol che si rivela in meravigliosi cari di meravigliosi cari